10.000 ragazze e ragazzi fino alle prime luci dell'alba sulla marina di Torre del Lago davanti allo storico locale Mamma Mia, senza autorizzazioni per ballare e senza mascherine. Un assembramento senza precedenti, dice il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Viareggio Alessandro Santini, e dire che il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro aveva vietato il maxischermo in piazza per la finale degli europei di calcio proprio per evitare assembramenti in passeggiata. Dobbiamo continuare ad essere prudenti, il covid è un nemico silenzioso e imprevedibile. Con le sue varianti e nonostante l'attività incessante di vaccinazione è necessario stare attenti ed evitare gli assembramenti. A malincuore, ha concluso il sindaco nel suo post, ho detto no, il che non ha impedito che a Torre del Lago sia stato improvvisato un ritrovo non autorizzato che è andato avanti fino all'alba. Caduti nel vuoto, tutti gli inviti alla prudenza, proprio nei giorni in cui la pandemia, sulle gambe dei giovani, sembra voler rialzare la testa grazie alla variante Delta.